Bentornati su Resident Evil 3 Nemesis, andiamo subito a fare il culo al nemesiuccio O magari al nemesis che fa il culo a te, penso che non è possibile come cosa Mamma mia Io non mi porterei il fucile, mi porterei il lanciagranate Ma c'ho la magnum Hai pochi colpi per la magnum, non ti basteranno No, si è portato pure il caricatore 18 colpi di me Più 12, più 6 Quanto scommetti G che muore? Ma dove devo andare? Diamo la fiducia, dai Attenzio Oh G, ecco i tuoi occhi di elfo Finchia il caricatero Dio bastardo assassino Garibaldi Garibaldi è venuto a salvarci Andiamo Porca madonna, madonna negra Questo è il nazismo, il comunismo Bitch, what the fuck? Mamma mia quanto sei bello Fight In teoria una persona normale morirebbe In teoria penso che tu morirà Esatto Ricordati che non vedi la tua salute scendere Lascio Lascio AHHHHH Porca madonna AHHHHH Due Tre, curati Ricarica la magnum Ho visto come è diventata il volto alla DJ Tutto chiaro Prima da tutto Ma Carlo se non è venuto a salvarti Ha detto che dovessi tenderlo quante? Altre due volte Eh vedi che ora il viso di Jill è in HD No perché si è curata Ma che cazzo? Usa la magnum Ha avuto la magnum C'ha aperto Wow Nice job Run bitch Run Ma adesso c'è il terzo round? No Basta Adesso usi Carlos Perché Jill I'd be Poisoned Boh è morta È morta Jill Niente niente Non possiamo fare good Jill Ma che? Dalle fiamme Sì è un po' buggato La tetta che gli entra dentro il corpo Ma va bene Mi fa ritenele con me La squadra Esatto Come una bambola Jill Porca E ora che devi fare con Carlos? Minchia sta partorendo ragazzi Carlos? Si sembra che i nostri ruoli hanno stato in reverse da quando ci siamo incontriamo Non ti preoccuparti Jill Questa città è sicura Ho stato infectato dal virus Non mi? Hey Prendete l'azienda Ah Sono ok Non sento nessun pain Ma questo è ciò che mi preoccupa Ma se non sento nulla Cosa significa? Non ti dimenticare Jill Ti prenderò Cosa che fai Non lascia il virus a te Good Carlos Quanto durerà questa mitragliatrice? Noo 200 colpi di mitragliatrice Adesso ci sono gli hunter nel ospedale Certo Sono hunter Boh mi ricordo Due hunter Per essere precisi E poi quando torno qua c'è il nemesis se non erro Si sfonda pure la porta Dai Pezzo di merda Dai Pezzo di merda schifoso Minchia tua madre Gli vestisse il cancro Probabilmente è morta Ma dove devo andare di qua scusatemi Ah no devo andare nella campana Giusto che devo spostarla Vero o sbaglio? La campana Sì La campana No non ci sono quei cose Minchia di odiati Don Pedro E Don Donaldo Ma quanti zombie ci sono? Dio ma Non penso che potremmo andare di qua Sì sì è di qua Sì sì è di qua Perché devo spostare la campana La campana È finito Where is everything going Bingo Wow Ok Hai visto quanto siamo forti con Carlo Solivera Allora innanzitutto devo Veloce nell'ospedale Boom Lei sta Poi porca madonna Merda No 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 Ma perché Almeno che Anche Carlo sei in HD Sì Eh muori Morituri te salutane Dove cazzo erai? Diventare di là dove escono tutti gli zombie Ah ok Eh prima facile Ma quello è Birkin Raccoon Hospital Mi ricordo tantissimo The Hype Minchia no Adesso c'è il medico bastardo Allora Marta No non è vero Oddio bastardo Oddio merda Che brutti stiante Però meglio quelli Le ulti verti Con le squadre Eh ma questi sono quelli bastardi Che ti avvelenano Jimmy Lo sapevi? No non ti avvelenano Non direi cazzate Sì ti avvelenano Che cazzo dici? Ci sono l'erberossi Boh una sola Ne prendo Nella stanza di salutaggio C'è un 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 Head spray Ottimo Dov'è Jimmy? Dov'è Jimmy? Che ne so Dovrebbe esserci Non c'è neanche Ah eccolo grande Jimmy Non c'è neanche Non c'è neanche Prenderai quella faccia Te la schiaccierei al muro Violento Ah ma qua c'è pure in In autobrick Sta stanza In realtà In realtà In realtà Autobrick L'ha copiato Da questo gioco Esatto In che piano Devo andare Prima ragazzi Ragazzi Terzo piano Jimmy Perché butti Il cazzo Devi premere Di nuovo Io sto leggendo Ma no Ma dai Ma così mi spoileri il gioco E' da fanculo Non fare domande Allora Deve Dove Cosa devo fare Quanto fa Il tifo Forza Cosa devi fare Qualterzo piano Io non lo so Ok Basta suggerire Va bene Io vado al prossimo Enigma Dando per Non perdere poi tempo Niente Niente qua Non c'è un cazzo Oh porca Ma Oila Nicolai Nicolai Ginoves Ah no Ma chi è sto pelato Non è pelato Ah ma sai chi mi ricorda quello Questo è quello di Final Fantasy Ma avete visto che c'è l'asta degli occhiali Piantata dentro l'occhio Questo è Tyrell 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 Tyrese Ma in teoria dovremmo essere morti tutti Eh ma quindi Non c'è un cazzo qua Io è negro Io per te l'ospedale Non me la ricordo proprio Ma ci sono due cazzate da fare Solo che dovevo fare una pro Non sparare Ok Quello luccica Quindi servirà qualcosa Cosa ho fatto? No Le fatte le rispegliate Di fare il vaccino Però mi sembra Che devi andare prima A prendere la base Il vaccino Eh ce l'ho qua La medium base Voi fatti il vaccino Muoviti Ma non penso Lo possa fare ora G Che ti prendi il colera Che ne so Ti sto facendo una battuta Sembra che devo andare prima Eh Deve mettere questo Will you parade Robo Eh no Come cazzo faccio Jimmy diglielo tu va Grazie Jimmy C'è un mito Ma adesso Devi prendere l'ascensore E scendere al primo piano Dove ci saranno zombie hunter Dai Dai Curati Claudio E non mi fa prendere le start Dai Ma non mi faceva prendere le start Ma non mi faceva prendere le start Ma non mi fa prendere le start Ma le tue le tue le salutan Penso che è meglio che se ti curi Perché adesso devi scendere al piano sotto Di sotto ci sono 4 zombie e 2 hunter Sì Forse dove andate the first floor no perchè qua sei nella 402 lì dentro è la 401 402 ma ti serve la chiave mi sa ma che cazzo fai che cazzo vuoi devi solo vedere l'etichetta il numero è che c'è lo zombie ti deve invivorare dai mi sa che splatter lo zombie accasciato nell'angolo cioè tu non dovevi proprio entrare tu lo sai che ti chinassi 2,5,3 dove si deve mettere? sulle slip che c'era scritto sulle mutande forse è shits quindi dove devo andare da una cassaforte? devi entrare la chiave dell'infermeria ce l'hai? no qua dove si prende la chiave dell'infermeria? nella data room dal terzo piano ecco qua qual era già il codice? me lo sono dimenticato ragazzi 2,5,3 ok ma bento forse qua c'è qualcuno ecco no no ah noi potrei di wesker sti stronzo è furbo wesker allora eccolo c'è più niente qua riuscire a sfruttare tutte le cellule del virus no 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 curati curati stai morendo curati esci vabbè ciao minchia mi sono spaventato mi hanno andato a danger a danger mi hanno andato ma sicuro nella 400 euro non c'è dell'erba verdi boh qualcosa dovevi cercare? devo spostare questo spostare quello eh aspetta perché se sbagli prendi la scossa in caso di rientrare e uscire scossa? eh ho capito ma il codice cosa mi serviva? c'è una cassaforte non c'era la cassaforte dietro a un muro? eh penso che quando metti la mattonella ti... quando stai... DIVO PORCO! bene esci rientra già iniziamo bene eh vai questa qui nell'angolo a destra che è la più vicina ma in teoria era randomico oggi sì però era randomico o no? sì è randomico allora cerchi metti la quella lì che è più vicina piuttosto che farti fare tutta la stanza tanto se è randomico come dici tu prendi un'altra scossa ma infringe danno? non lo so non penso forse questo è un gioco che bastardo bene dovrebbe essere cassaforte dietro al quadro diceva l'hai messa a bene? ecco ecco perché non 2-5 2-5-3 2-5-3 ci va in sicure la cosa cambia errando ah ok adesso questo lo combino col vaccino e praticamente ok 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 ho capito ok ok può essere che esca qualche ante forse si si no ma di fatti escono che che ti fa fa la capriola carlos mamma mia ben vai al piano terra dove ci saranno altri zombie altri però inizierà il detonatore ad esplodere il detonatore che cazzo sto dicendo premi primo piano vai attento e quanti sono zombie e hunter e hai 20 secondi per scappare poi appena vai nell'altro quanto guardi nice tecnico porco perché fai i giri della madonna vabbè vinci è vero che coglione questo mi ricorda che trapposte si quindi di fatti io faccio una bella cosa certo di fatti ecco bravo oggi mi fini dell'episodio di fatti di fatti